Vi rubo soltanto un minuto, state messi a dire perché è veramente un contest incredibile dove potete vincere dei premi incredibili. Questa è un'iniziativa che ha preso OneFootball e si chiama Calendario dell'Avvento. Ci saranno premi in palio dal 1 al 24 dicembre assegnati tramite sorteggio. Io, Mirko e Mister abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa il 1 e il 2 dicembre. Per il concorso del 1 dicembre, che partirà la mezzanotte appunto del 1 dicembre, finale 23.59 dello stesso giorno, e ci sono in palio, state messe a dire bene, ben due magliette ufficiali della SSC Napoli. Mentre per il 2 dicembre, a partire sempre da mezzanotte, finale 23.59 dello stesso giorno, in palio due copie di FIFA 18 per PS4. Saranno scelti tramite sorteggio due vincitori diversi per entrambi i giorni. La partecipazione al concorso è giornaliera, bisogna quindi andare nell'app ed iscriversi ogni giorno in cui si vuole partecipare. Come mostrato nel video, comunque in sovrimmessione. Quindi non basta iscriversi una volta sola. Il concorso è visibile solo a chi ha scaricato l'ultima versione dell'app. Quindi se ancora non l'avete scaricata, primo link in descrizione. Mi raccomando ragazzi, scaricatela perché dal 1 al 24 dicembre ci saranno dei premi incredibili. Primo link in descrizione per scaricare OneFootball. E adesso andiamo dentro con il video. Bella ragazzi, carico come non mai da FuseGamer. Oggi ragazzi, siamo incredibilmente dopo un anno sempre con Napoli e Juventus. Come vi ricordate l'anno scorso abbiamo fatto sempre sto match su FIFA 17. Oggi siamo su FIFA 18 per risimulare la partita che ci sarà stasera tra Napoli e Juventus. La risimuliamo, l'anno scorso l'ho fermato il grande Fuse sullo 0-0. 0-0, oggi siamo con Gabriele, mio zio. Molti ti scambiano per mio padre. Lo so, tutto questo è molto imbarazzante perché non avrei fatto un figlio a Napoli d'Arco, con tutto il rispetto. Nato a Napoli, ma non tifoso del Napoli. Ragazzi, comunque vi lascio qua nelle schede e comunque in descrizione l'intervista doppia che abbiamo fatto io e Gabriele. sempre riguardante Napoli-Juventus. Non perdetela, è molto interessante. Quindi ragazzi, oggi siamo Napoli-Juventus su FIFA, ecco gli stemmi, Napoli-Juventus. Andiamo dentro. Con il match e con le formazioni. E si gioca. Come venite cominciamo? A gestionare un caffè. Dai ragazzi, sei il Juventino e bevi il caffè a Napoli. La città rosolo, il mare, il femmine, il caffè. Vabbè, il femmine andiamo a preoccupare, bello. Per quanto riguardi il caffè. Ma poi mi piace il caffè, eh? Vai, andiamo dentro con la partita. Andiamo dentro con la partita. Ma fa, si strunzola. Ah, mi piace, non si perde il creatore cingano. Per la vetta? O per... O per restare aggrappati alla vetta. Vai, comincia. Gio anche con mano fratturata, non giocare. Aspettate, hai il trainer, cavolo. Vattene da class. Fulminato sul posto. Fatto pure a Kissunirone e Kulibali. No! Un iron. Capri fa pure la telecronaca, però. No, io non lo so fare. C'è la telecronaca, no, stai tu. Ma come ha messi qua in? No, non lo ha messi qua in. No, perché non si ripiglia la mano? Di barra, fa una magia. Non si ripiglia la mano, non ti preoccupare. Capriè però. Che c'è? Sei un antisportivo. Ma perché? Aspettate, ma giochiamo tutti i capelli. Scusate. Sembra strano, ma non li stiamo facendo giocare. Ah, di bala. Primo tiro della partita è bianco-nero. Siamo arrivati al diciassettesimo. Fius Namis Popaporto. Sì, una cosa, quello che conta il risultato. Hai ragione. Non ci aggrappiamo a tirie. E va! Non mi dovevo già. Paolo! Che gol di Dybala. Quella di Panamask. The mask. C'è il cane che è uno perché è segnato la Juve. Ma quell'assist del Gonzalo... Ma non vale però, dai. Ah, poi, ah, che pochè, no, che piera. No, che mana. Fallo giocare, è finto. Ti porta bene per la partita. Chris! Mannaccia, Juventus. E guardo, ah. Ma non è rigor, è rigor, è rigor. Vado, vado. Ma vado in unobicale che era l'avarto. Ve lo ho detto nell'intervista che vedrete dopo nelle succulenti anticipazioni. Ah. Vai, vai, va, vai, vai, va, vai. Vai, 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 vai. Su quadrate. Giorginio. Cayè con uno, no, é mertens, mertens. Mertens dentro per maggio. Ancora maggio. Voce Bitte Christian. Christian la mette al centro. Kayakon Ebbene sia consuntuosa Dai avanti dai Chi devo mettere? Gabbiadini davanti Vai Kayon Kayon Kayakon Destro di Kayakon Buffon Insigne dietro per Amse Amse dentro per Mertens Mertens ancora dentro per Kayakon No No Guardalo Fido il primo tempo Fido il primo tempo Vince la Juve 1 a 0 Vi porta bene per la partita reale Smetti Chiangere se No Goal Gonzalo Gonzalo Non si vede Ah che baccato Eccolo qua Che gol ha fatto Tra la vastu scema Perché Vi rendete conto Che sarà il contrario Nella vita reale Perciò Perciò Sparate i like Per il bianconero Vincente E' calato un silenzio Tombale Sul San Paolo Però Non cantate vittoria Giocate Questo è il Napoli E' forte Mamma mia Capri come Dove Gagli in gol Ma perché mi chiede 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 in gol A giro buffon O maggio Quadra Maggio Questo dovrebbe giocare in azione Ancora maggio 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 dentro per Amsic Ecc Gigi No Grande giaccia D'angolo Bravo Gigi Bravo Gigi Tanto che serviva Ragazzi Non abbiamo vinto La partita E' il 57 Con i balini Insigne Ancora Sto schiacciate Insigne 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 Sinistro Insigne Tu No La partita Del cacchio Guardate come la giaccia Non ci fate bruciare In velocità Ma vai No No Guardi Questa Quello che era nostro Avanti Rapoli Vai maggio Ancora Kayon Allan Mamma mia Che Napoli Adesso Maggio Maggio Scatenato Il palla per Kayekon Kayekon Detto per insigne No Chi cazzo ha salvato Non lo so Ma pure sua Maggio Mamma mia No Che ti puoi Che culo Guardalo Mira lem Guarda Mamma mia Che parata Che parata Fatto Mertenza Destro Del merte Che culo Insigne Dentro per amsic Fallo Mamma mia Che vergogna E che Non è Fallo Ma come Ma chi l'ha pulito Sul pallone Vuoi lavar Volete piagnucolare Guarda Valvido Che fa Fischia Signori Anche quest'anno Nell'edizione 2017 Si conferma L'imbattività Di quella scritta Lì Dei bianconeri Ciao ciao Vabbè però non vale Come non vale E non vale Che segna di guaine Che non giocherà Cioè Vabbè Allora non vale Per la realtà Vincite la partita Ma per una Per Cortesi Sarà di buono auspicio Per Cortesi Sarà di buono auspicio Per il momento Grandi followers di Fuse Seguitelo Zio Bianconero Vabbè Vedremo stasera Come finirà Speriamo bene Ovviamente Bocca al lupo al Napoli In bocca al lupo alla Juve Siete capolista E onore alla capolista Per il momento Quindi lasciate un bel mi piace Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mi raccomando Cosa ci devono scrivere Nei commenti Che tieni un grande zio Non cominciate Quei commenti Dell'anno scorso Ah fa un mucco Perché dicono Cos'è brutto Cos'è brutto Quindi Noi ci rivecchiamo Nel prossimo Bene ragazzi Statevi bene Amici Non l'ho fatta a posto E devo fare Evamente Non l'ho fatta a posto 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 Non l'ho fatta a posto